Buongiorno a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo degli strumenti digitali e degli strumenti ottici. Oggi, con molto piacere, vi presento le mie impressioni riguardanti il binocolo con prismi di porro Oberwerk 25% e di Ultra, che costa 949 euro, IVA inclusa. È dotato di obiettivi a bassa dispersione in vetro FK61 e mi è stato inviato, come sempre, dal distributore europeo di Oberwerk. Su Binomania, come sempre, potrete leggere una recensione approfondita. Io, in questo video, cercherò insieme con voi di esplorare le caratteristiche tecniche, i pregi e i difetti di questo binocolo. Direi che ci possiamo vedere subito dopo la breve sigla. Non andate via, a tra poco! Come potete notare, il binocolo è dotato di prismi di porro. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 4043 grammi, senza tappi e senza la piastra di collegamento al trepiede fotografico. Come prassi, è presente anche una grande barra centrale che offre maggiore stabilità e previene anche la scollimazione dei due tubi ottici, oltre a consentire un ottimo bilanciamento dello strumento quando montato sul trepiede fotografico. Questo esemplare ha mostrato una collimazione ottimale. Il design è gradevole, con una protezione parziale del binocolo tramite un'armatura di colore verde scuro, con una finitura simile alla buccia di arancia, che offre un ottimo grip e che è relativamente facile da pulire. Nella zona degli oculari sono presenti i principali dati tecnici del binocolo, come il formato, la sua resistenza all'acqua, il campo lineare che è pari a 46 metri per millimetri. Inoltre è menzionato il trattamento multistrato antiriflesso e prismi in vetro BIG AK4. È costruito con materiali metallici e la struttura è completamente riempita in azoto e un punto a favore rispetto a prodotti simili, dato anche dalla presenza di supporti per i prismi di porro, che hanno una piastra flottante di precisione. Inoltre i tubi ottici sono rinforzati e incernierati per garantire un'ottima resistenza agli urti. Insomma, si tratta senz'altro di un prodotto di alta qualità. Per quanto riguarda il sistema di messa a fuoco, l'oberwork 25% e di ultra è dotato di una messa a fuoco singola su ogni oculare, con tacche di riferimento da più-5 che mostrano l'escursione totale per focalizzare quindi le immagini. La messa a fuoco si è rilevata estremamente precisa, consentendo di ottenere immagini perfettamente nitide. La messa a fuoco minima è dichiarata di 20 metri, ma l'esemprare che ho testato metteva fuoco a circa 38 metri di distanza, ma certamente questo non è un binocolo adatto al birdwatching. Credo che il punto di forza principale di questo binocolo sia rappresentato dagli obiettivi a bassa dispersione. E' stato infatti utilizzato vetro FK61ED che riduce notevolmente l'aberrazione cromatica. E' un vetro che ha una dispersione quasi simile all'FPL51 molto utilizzato nel settore astronomico. Possedendo personalmente un altro binocolo 25% acromatico posso confermare senza alcun dubbio che il controllo dell'aberrazione cromatica è notevolmente superiore. Le immagini al centro del campo, come state vedendo, sono sempre molto nitide e contrastate. La tonalità dei bianchi è risultata leggermente calda, ma personalmente questo non mi disturba, anzi la preferisco nelle situazioni di foschia dove offre un controllo migliore rispetto a prodotti con un'ottica più neutra. Gli oculari poi offrono un campo a grande angolare dichiarato di 46 metri a mille metri che corrispondono quindi a un campo reale di 2,63 gradi, generando un notevole campo apparente di quasi 66 gradi. Quindi è un binocolo grandangolare. I paraluce in gomma sono morbidi e possono essere abbassati completamente per consentire l'utilizzo di portatori di occhiali. Devo dire di aver apprezzato molto la trasparenza di Oberwerk riguardo la reale misura dell'estrazione pupillare. Infatti alcuni costruttori tendono ad essere più generosi nelle loro dichiarazioni, nelle prestazioni degli strumenti. Quindi è consigliabile come già sottolineato sul sito ufficiale da Kevin Bussaroff che portatori di occhiali dovrebbero comunque provare lo strumento prima dell'acquisto. Personalmente ho misurato la distanza dal centro della lente di campo al bordo del paraluce non retrato e ho ottenuto una misura in perfetto accordo con quanto dichiarato da Oberwerk. Con la mia distanza interpupillare di 66 mm inoltre quella tra gli oculari è di 17,20 mm. Tuttavia grazie alla morbidezza dei paraluce è possibile godere di un confort ottimale perché si adattano delicatamente alla mia arcata sopraccigliare e al naso. Ho stimato poi una distanza interpupillare di questo strumento compresa tra 60 e 77 mm. I prismi sono composti da vetro BHK4 e si nota poca luce diffusa all'esterno della pupilla di uscita, come potete vedere. Infatti questo è indice di un lavoro egregio. Il field stop, quindi i bordi di campo, sono netti e non si osserva alcuna vignettatura e bordi che comunque sia inficiante nell'utilizzo pratico. È anche stato ottimizzato con un sistema multistrato su ogni superficie ottica che si palesa con un piacevole colore verde smeraldo. Riguardo le aberrazioni cromatiche e geometriche vi consiglio, come sempre, di leggere l'articolo che è molto più approfondito. Io vi posso però anticipare che i vetri a bassa dispersione FK61 e D del binocolo 25% in proporzione al loro rapporto focale consentono ancora un'ottima correzione del cromatismo residuo. Durante l'osservazione delle sfere distanziatrici e dei cavi dei tralicci elettrici, come state vedendo adesso, guardando con un occhio il centro del campo visivo, ho potuto notare soltanto un lievissimo alone blu-verde, poco invasivo, quasi sempre nelle giornate grigie, non in queste assolate, che scompare quasi totalmente quando si guarda con entrambi gli occhi. Nelle pessime condizioni di osservazione, con un paesaggio innevato in forte controluce, allora talvolta ho percepito un lievissimo cromatismo residuo. Ovviamente l'FK61 e D che, vi ripeto, è simile all'FPL51, ma non raggiunge le prestazioni e il prezzo di acquisto dell'FPL53, mi pare un ottimo compromesso per contenere comunque il prezzo di acquisto di questo binocolo. Nell'uso di urno, inoltre, ritengo che il campo sfruttabile sia pari al 90% circa, hai visto? Il minimo degrado al bordo del campo. Adesso è giunto il momento di parlarvi delle mie impressioni pratiche sul campo. Ovviamente, nell'osservazione naturalistica, non è un binocolo da beardwatching, in quanto è dotato di oculari con messa a fuoco singola e, come ribadito, la distanza minima di messa a fuoco che ho riscontrato in questo esemplare è superiore ai 35 metri. Tuttavia, se siete appassionati, come me, ad esempio di rapaci e vi divertite a riconoscerli anche a lunga distanza, questo binocolo risulta veramente molto utile per vari motivi. In primo luogo costa mediamente meno di uno spottingscope di discreta qualità. Sebbene non disponga di un oculare zoom, i 25x utilizzati con entrambi gli occhi forniscono una capacità di discernimento che reputo molto simile a quella ottenibile con uno spottingscope a 35x. Inoltre, se potete utilizzare un supporto stabile come questo, ad esempio, un binocolo dritto vi consentirà anche di puntare più facilmente i rapaci sfuggenti come i falchi pellegrini. Utilizzato poi su un'altana, mostra una serie incredibile di dettagli, dai nidi di rapaci, situati anche a 800 millimetri di distanza, ai posatoi delle poiane, passando ad esempio per i falchi di palude e altro ancora. È uno strumento completamente diverso da uno spottingscope, ma per un certo tipo di osservazioni, come ad esempio i censimenti di lunga durata, secondo me è senza dubbio più performante. Per quanto riguarda l'osservazione del paesaggio, considerando il suo ampio campo apparente la resa ai bordi che reputo ottima, il suo ingrandimento, la luminosità, è senz'altro un binocolo che consiglio vivamente a chi vuole investire una cifra inferiore in 1000 euro e possiede già un ottimo cavalletto. Con i suoi 25 ingrandimenti e l'uso di entrambi gli occhi è possibile osservare dei dettagli che sarebbero impossibili da vedere con un classico binocolo da 10-15 ingrandimenti, anche se comunque è installato su un cavalletto. Ho visto più volte, infatti, sul Monte Piancavallo, che dista da qui 32 chilometri, branchi di cervi, gruppi di ciaspolatori e persone che cercavano di raggiungere la vetta, il tutto con estrema facilità e comodità e con un ottimo dettaglio. Il contrasto inoltre è medio-altio e ha anche un buon contenimento dell'aberrazione cromatica, che diventa eccellente quando è confrontato con i classici binocoli che costano 300-400 euro. Penso che sia quindi un ottimo strumento per chi possiede, ad esempio, una casa o una da cui ammirare un panorama suggestivo come questo. Necessita senza dubbio di un supporto stabile e, in tal caso, vi consiglierei di non lesinare troppo sull'acquisto. Potrebbe anche essere considerato uno strumento definitivo per molte persone. Inoltre, anche lato estetico, onestamente da considerare, pare anche un bellissimo oggetto d'arredamento. Veniamo adesso all'osservazione astronomica. Ragazzi, ho terminato la prima sessione astronomica. Vi posso confermare che le stelle nei pressi della costellazione di Orione sono risultati veramente molto puntiformi, sembra quasi un rifrattore. C'è un degrado stellare a partire da circa il 75-80% del campo che dipende molto dalla luminosità delle stelle. Quindi le stelle con magnitudine più elevata le vedrete meno puntiformi, già verso il 70-75% del campo. Mentre quelle più flebili, diciamo così, devo confermarvi che comunque mostrano un'ottima resa anche verso l'80% da partire sempre dal centro del campo. Vi posso anche anticipare che la nubulosità di M42 è elevata. Mi ha dato un po' la percezione di stare osservando appunto a 25-30x con il mio rifrattore apocromatico da 5 pollici, e appunto ribadisco puntiformità al centro veramente da rifrattore, da telescopio. La percezione dei dettagli poi sui soggetti flebili è paragonabile a quella di un telescopio di circa 130 mm di diametro, con ovviamente la possibilità di beneficiare di un ampio campo di vista a bassi ingrandimenti e di navigare rapidamente nel cielo con una rapidità e facilità d'uso che soltanto un binoculo è grado di compiere. La nebulosa M42 nella costellazione di Orione ad esempio si palesa con una evidente forma di colore grigio screziato, decisamente ampia, anche M78 è facilmente visibile sotto cieli medio inquinati e sotto un cielo discreto, quindi a mille metri di altezza, come qui dal Monte Siete Termini, è possibile già percepire differenze tra le galassie M81 ed M82 che mostrano facilmente la loro forma di simile. Le Pleiadi e le Iadi inoltre sono degli oggetti meravigliosi da osservare con un binocolo 25% di questa qualità ed è un'esperienza che vi invito senz'altro a fare nel corso della vostra vita. La Luna esibisce soltanto un levissimo alone spurio se portato ai bordi del campo, mentre al centro le immagini sono molto nitide e contrastate e a 25 pera è possibile percepire decine di crateri lunari, le Alpi, gli Appennini, tutti i mari lunari e le differenti differenze di albero della superficie. In tale caso secondo me la resa è paragonabile a quella di un rifrattore da 115-130 millimetri di diametro dotato di almeno 30-35 ingrandimenti. Giove palese invece un leggero bordo orlato quindi un lieve residuo cromatico ma esibisce chiaramente la NEB e la SEB. Insomma, sotto un discreto cielo sono fortemente convinto che questo binocolo possa diventare per molti appassionati uno strumento definitivo. E' giunto adesso il momento di parlarvi in sintesi dei pregi dei difetti. Tra i pregi direi, obiettivi in vetro FK61, quindi EDI, robusto impermeabilizzato, un campo di vista grandangolare, un buon contenimento delle aberrazioni cromatiche geometriche, maggiore nitidezza e contrasto rispetto ai binocoli 25 per cento più economici, è competitivo rispetto ai classici binocoli angolati nell'osservazione del cielo profondo, ovviamente è solo un po' più scomodo essendo un binocolo dritti e a tratti mi è parso anche a volte più luminoso. Tra i difetti ha un campo non completamente piatto fino al bordo e la presenza di un po' di aberrazione cromatica in alcune circostanze, comunque se confrontato soltanto con binocoli angolati con vetro SD che sono decisamente molto più costosi. Inoltre c'è l'esigenza di un treppiede robusto e di una montatura magari a parallelogramma per un'osservazione astronomica ottimale. L'estrazione pupillare, come già ribadito, è un po' limitata per i portatori di occhiali, quindi consiglio di provarlo prima dell'acquisto. In conclusione ritengo che l'Oberwerk 25% ED Ultra sia un eccellente strumento polivalente adatto sia all'osservazione del paesaggio che all'astronomia, soprattutto per oggetti del cielo profondo come nebulose a masse stellari. Grazie ai vetri FK61 ED riduce notevolmente l'aberrazione cromatica rispetto a binocoli 25% di fascia inferiore, offrendo un campo di vista quasi totalmente sfruttabile e un'ottima puntiformità stellare al centro del campo per gli amanti dell'astronomia. Per coloro inoltre che non possono investire una cifra significativamente superiore per un binocolo angolato da 100 mm con oculari intercambiabili, penso proprio che questo binocolo rappresenti una scelta eccellente e un netto miglioramento rispetto ai binocoli 25% di fascia inferiore che dominavano il mercato fino a pochi anni fa. Ancora una volta, secondo me, Oberwerk dimostra di sapere soddisfare gli appassionati esigenti che desiderano osservare il cielo e la natura ad alti ingrandimenti senza dovere necessariamente investire una fortuna. Vi ripeto il prezzo, l'oberwerk 25% ED Ultra costa 949 euro, IVA inclusa. Io ringrazio Kevin Busarov di Oberwerk.com per le preziosi informazioni fornite a Pietro Romagnoni, il distributore europeo di Oberwerk, per avere fornito l'esemplare oggetto di questo test. Trovate entrambi i siti qui sotto in descrizione. Io per oggi termino qui, magari continuo un po' a osservare, visto che è la prima giornata di sole dopo molti giorni di pioggia. Vi aspetto, come sempre, su questo canale. Ci vediamo anche sul sito ufficiale che è binomania.it. Se volete discutere con molti appassionati, potete venirmi a trovare anche sul forum di Binomania e magari sul gruppo Facebook Passione Binocoli e Cannocchiali. Insomma, trovate tutti i miei sociali in descrizione. Se volete aiutarmi a divulgare e a continuare la mia attività giornalistica indipendente, potete innanzitutto mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video e attivare le notifiche, magari condividere il mio canale con i vostri amici appassionati. Inoltre, da quest'anno è disponibile l'opzione premium su Binomania che vi consentirà, con un piccolo abbonamento, semestrale o mensile a vostra scelta, di navigare nel sito senza la pubblicità di Google e di beneficiare di alcuni sconti che ogni mese vengono proposti dalle aziende che collaborano con la mia attività. Io vi ringrazio. Vi ricordo ancora che, per chi non l'avesse fatto, è possibile iscriversi a questo canale utilizzando l'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti i lettori di Binomania e un ringraziamento di cuore a tutti gli appassionati che ogni giorno mi seguono su questo canale. Buone osservazioni a tutti. Ciao ragazzi!